Ciao e benvenuto, sono Ettore Petrolini, attore, drammaturgo, cantante, scrittore e sceneggiatore specializzato nel genere comico. Sono stato uno dei pionieri del teatro, di varietà, della rivista e dell'avanspettacolo. Insomma, ho fatto ridere un sacco di gente. Gigi Arbullo, il Sor Cabanna, Fortunello, sono alcune delle parodie che hanno fatto il giro del mondo. Ma non bisogna dimenticare le mie canzoni, come una gita a Ligastelli, nota anche con il titolo di Nanni e tanto per cantà, eseguita anche da artisti del calibro di Nino Manfredi, Gabriella Ferri, Lando Fiorini, Gigi Proietti e pure Renzo Arbore. Vieni a scoprire le canzoni da me scritte o interpretate e tanto per cantà.